Focus sul gioco pubblico, il titolo del convegno di questa giornata università è Medio Start Virtus, un aspetto importante da non sottovalutare e soprattutto riferito a molti giovani presenti quest'oggi. Sì, è vero, il gioco ormai è quanto mai presente nella società e essendoci i giovani come la fetta più grande della società sono quelli che maggiormente sono esposti e coinvolti. L'osservatorio sotto la guida del professore Addeo sta facendo uno studio specifico non solo sul gioco pubblico ma su giochi ludici, virtuali che quotidianamente noi siamo abituati a utilizzare. Infatti il professore Addeo può spiegare meglio questa ricerca interessante, i primi risultati di questa ricerca interessante che l'osservatorio sta portando avanti. Stiamo realizzando una indagine sulle pratiche di gaming dei ragazzi soprattutto, quindi come si approcciano alla forma più vicina al gioco che loro hanno nella vita quotidiana che è il videogioco. Ho guardato come questa forma di gioco in certi casi sfoci nel gambling o quantomeno in forma di gioco d'azzardo. Oggi presenteremo i primi risultati dell'indagine condotta su un campione non ancora rappresentativo di quasi 500 persone e da qui poi daremo i risultati per proseguire con i nostri studi, con le nostre ricerche. Convegno dal titolo in medio Stat Virtus incentrato sullo gioco pubblico ma anche su quelli che sono i risvolti sociali legati ad esso? Certamente il gioco pubblico è una definizione che comprende tutto ciò che riguarda il gioco lecito regolamentato che da noi è un punto di eccellenza obiettivamente in Italia perché abbiamo un mercato super regolamentato con controlli efficaci ed è anche una grande risorsa per lo Stato. Quindi sì, certamente quando si parla di risorse si parla anche poi di impiego di risorse e quindi i risvolti sono evidentemente anche nei confronti dei servizi che i cittadini ricevono a fronte di questo contributo finanziario notevolissimo che proviene dal gioco. In questa ottica nel suo intervento ha detto non dobbiamo prendere per male tutto quello che ci viene spacciato per male è proprio questo il senso? Il senso è questo perché c'è stato addirittura un professore dell'università tedesca che ha scritto un libro dicendo che chi non gioca è malato adesso il titolo ovviamente è ironico però rende l'idea cioè il gioco fa parte della natura umana quindi il problema è come utilizzare questa distrazione perché il gioco è divertimento, è intrattenimento insomma non necessariamente deve essere visto come un'attività da criminalizzare insomma al di là di quello che sono poi gli aspetti proprio anche pratici risvolti lavorativi è una vera e propria industria insomma che impiega persone e risorse